nina e olga episodio 8 prima a nina no olga in cambio di una carota olga ti do questa questo pomodoro questa foglia pomodoro può fare un assaggino a nina non la vuole ma la vuole olga è un po' oi, non si è riuscito Niki, guarda, non si è riuscito Niki